Devo dire che sarà un ottimo regalo natalizio, poi c'è il famoso detto soddisfatti o rimborsati, per cui se non vi piace ve li ricompro tutti io. Non è solo che in virtù della parentela è stato scritto, è proprio perché Vinoresi vince a 100 di media, intorno a lui si direbbe a Caracalla brillano le notturne pacche. È una bellissima storia. La vita di quest'uomo era un romanzo, bisognava solamente metterlo giù. Vinoresi ha già vinto a Bruxelles e nel Lussemburg. Le nostre due coppie dove sono? Gratuite, gratuite. Dovete assolutamente andare dall'editore che sono sicuro. Lo scarico a Barile. L'undicesimo giro e lui al comando e Bonetto non riuscirà più a superarlo. Vittoria per 18 secondi. È bello, ho iniziato a leggerlo, mi piace, a tutto gas e senza freni. Infatti, e andiamo a tutto gas? Al buffet, al buffet. Senza freni oltretutto. Comunque questo è uno dell'editore e mi sento già di bar. No, lo prendo io, ma perché devo portare io il peso? Assolutamente velo. Grazie per te. Grazie, ciao.